Vi sfidiamo ad una challenge Genitori contro figlie! Accettate? Sì! Patti, sono davvero contenta che finalmente tu e Nico siete venuti a trovarci, guarda! Guarda, per noi è un grandissimo piacere, veramente, sai! Ci voleva proprio questa bella chiacchierata di rilassante! Ragazzi, basta, basta! Ma se può che non si riesce neanche a parlare? Ma veramente? Ma con tutto lo spazio che avete, proprio qui dovete stare! Che bello! Ragazze, Sofì, ma tu hai capito o non hai capito che state facendo confusione e non state facendo capire niente noi adulti? No, ragazze, mi spiace, dovete andare subito tutte in cameretta! Sofì, per favore, questo non è una sala giochi, eh! Eh, la cameretta è andata a giocare di là! Uffa, però! Andate, andate, ciao, 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 ciao! No, vabbè, ragazzi, ma vi rendete conto? Ma Sofì sta diventando impossibile, vero, Papi e Andy? Ah, guarda, quando fanno così? Anche Letty o...? Letty è fuori di testa! Io direi, dobbiamo dare una lezione a queste bambine, perché non ubbidiscono più, si comportano male, quindi ci sto! Che cosa possiamo fare, Patti? Ma io... E se facessimo una challenge? Una sfida? Sì! Facciamo genitori contro figli! Sì! Sì! Io faccio il figlio! Tu, no, tu sei... Io faccio il figlio! No, tu sei dei nostri! Facciamo una challenge così, contro di loro e se perdono dovranno ubbidire e fare tutto quello che noi diciamo! Ma secondo me non c'è storia, ragazzi, noi vinciamo! Adesso le chiamiamo! Ragazze, vi dobbiamo dire una cosa importante! Venite subito, senza giocattoli! Ma... Cosa c'è? Non c'è! Eh, cosa c'è? Andate lì ferme! Abbiamo una cosa molto importante da dirvi! E cosa? Vi sfidiamo ad una challenge... Genitori contro... Figlie! E... Accettate? Sì! E allora diamo inizio alla sfida! Vi presento la mia squadra, che sarà la vincitrice! Papà Nico! Mamma Patty! Papi Andy! Mamma Moni! E insieme siamo la squadra dei... Ceritori! E adesso vi presento la mia squadra! Molto migliore! Letty! Lu! Sofie! E insieme siamo le... Figlie! Lu! La prima sfida... Ma... Ascoltate... Consiste... E fa il canestro... In questo contenitore! La squadra che fa più canestri... Vince! Ehi! Ehi! Non è giusto! Sì! Non è giusto! No! Vinciamo noi! Vinciamo noi! No! Sì! Aspetta! Siamo due a uno per i genitori! Sì! Tra due per i genitori! Tra uno! Tra uno per i genitori! Allora... 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 Tocca a Sofie! Cosa combinerà? Olè! Non ce l'ha fatta! E adesso mamma parti! Vediamo se fa il canestro! Olè! È tutto! Lu! Ti tocca! Ti battiamo! Lo perderete! No! Bravo papirica! Non c'è pari niente! Vai! Lu! Tocca a te! No! Ultimo giro! Ok! No! Papi Andy! No! Sì! No! E ora tocca a me! Siamo tre a... Due! Quattro a due! Quattro a due! Quattro a due Brigitte! Tocca a due! Facile! No! No! A chi torna? A me! A Sofie! Vai Sofie che tu sei vingato! No! E chi ha vinto la prima match? Chi ha vinto? No! Avete vinto la prima? Eh! Adesso vinciamo tutto! figlie, figlie, spostatevi, guardate l'argo ai genitori adesso decidiamo noi la challenge dovremo bendarci tutti e non dovremo bere quello con il sale no, 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 voi siete pazze se non lo fate avete perso la challenge no, ma io non voglio fare questa sfida e così perdiamo no, papi andy no, te lo scordi, no, no, no no, allora, nico, tu ferrai quell'intugno insieme a me ci stai? va bene ci stiamo allora, bendiamo bene le t e non barate quanti sono questi? non li vedo ok, mescoliamo il bicchiere del sale con il bicchiere dello zucchero così non saprai mai cosa vai a bere ok, Letty, scegli uno dei due bicchieri e... questo? bevilo c'è il sale? no, giusto nico nico stanno vincendo loro questa challenge dobbiamo recuperare no, dai, adesso tocca a te dovete partecipare povero papi dai, meglio ti tesoro poterai subito mua 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 questi li giro io ancora, ancora e che diciamo noi? ok ok, sai vai vai baby 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 poverino poverino wow uno un poco a noi siamo una vite è scappato ecco non doveva scegliere quel bicchiere ci poteva in perdere nico? chi tocca? che schifo Mi raccomando, scegli quella col sale, Sofì No Vai Ok, vai, scegli Eh, non volare, Marie, aspetta, aspetta, te le giriamo noi che siamo fedeli Sì, lei volava Ok, allora Scegli molto bene, Sofì No Bevi, 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 un bel sorzone, vai, 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 glug, glug, glug Adesso è il turno di Mamma Mommy Affoglio Non fate le truffantelle, girate bene Posso bere? Sì, sì Dove sono? Sceglierò questo o questo? Direi questo Questo va bene? Che dite? Lo bevo? Sì Non pensavo di avere uno sputo così lungo Ho sputato al camera Me ne facciamo vedere Ho sputato sulle telecamere Guardate qua Guardate qua come è rimasto Ma che schifo Una salvietta Scusa papi Andy Scusa Non volevo sputarti addosso Ma che schifo Allora a tutte le mamme in ascolto Se volete sputare addosso i vostri mariti Fate organizzate una bella challenge Poi fate finta il sale di qua di là Gli sputate addosso No scusa amore Non te la perdono Allora Genitori a rapporto Intanto vi volevo dire Mamme E papà in ascolto Votate per noi Per la squadra dei Genitori Lasciateci un like Cosa avete da dire voi No 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 Per la squadra Dele figlie Lasciatelo a noi like Non a loro Ok No No E adesso tocca a Lu Dai devi vincere Lu Quanti sono questi Lu? In che senso Non lo so Mi schiamo Mi schiamo Gira 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 la ruota Non lo so Non lo sceglie Questo Bebe bebe Stanno vincendo loro ragazzi Siamo campionese Campionese Adesso Papi Andy E' tutto nelle tue mani No Io ho detto che non lo facevo Papi Andy Papi Andy Papi Andy Papi Andy Papi Andy Allora Attenzione Attenzione Papi Andy Puoi salvare la squadra Dei genitori Non devi assolutamente Prendere Il bicchiere con Il sale Mi raccomando Guardi solo Ok Gila 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 Papi Andy Mi raccomando Pensaci bene C'è lo zucchero C'è il sale Non devi prendere il sale Manghingo No Posso cambiare No Devi bere ormai Andai giù Andai giù Andai giù Ha preso il sale E quindi Questa mance La vincono Le Game Genitori Visto che abbiamo vinto Questo round challenge E voi avete perso Quindi indichiamo Questa canzoncina Figli Il migliore Il migliore Il migliore Siamo i migliori Siamo i migliori Sì Riunione Team Genitori Dobbiamo pensare A una strategia Adesso Che challenge c'è? Che challenge c'è? C'è quella Dell'ula hop No Lula hop Tu sei capace? Ma no Io sono un disastro No Nico Vieni qua Guarda Io mi sa che vado via Come Nico Io non la so fare Come facciamo Allora Mamme E papà In ascolto Dateci il vostro Supporto Morale E quindi Dateci dei consigli Come facciamo A vincere Contro le figlie Che saranno Bravissime Io ho un'idea Facciamo fare Tutti gli ula hop A loro E copiamo La tecnica Copiamo La strategia Copiamo La strategia Ok Siamo pronti Siamo pronti Adesso Vi distruggiamo Inizia Con sta sfida Lu Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wow Dai Nico 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 Dai Facci vincere Dai 1, 2 2 2 2 Va bene Io non sono capace Ragazzi Dai mettiti No no Prego signora Mi vergogno Mi vergogno Allora Si può fare una prova Prima 1, 2, 3, 4, 5 No Stiamo perdendo No Recupero tutto io Recupero tutto io A scuola ero il campione di Eulop A scuola ero il campione di Eulop Papi Papi 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh no! Abbiamo vinto! Mi sa che abbiamo perso! Abbiamo perso! Abbiamo perso! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evvive Striguitas! Iscrivetevi, cliccate la campanella e spolleggiate! Scrivete qua sotto nei commenti che team ti fate! Ovviamente quello delle figlie, vero? Mi raccomando! No, quello dei grandi! Quello dei grandi! E' proprio schifo a far tutto! La prossima sarà la sfida della bandiera! Chi vincerà? Noi! 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 No, no! Vinceremo noi! Sì! Numero tre! Beppe! 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 Numero... Due! Beppe! Ale! 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 Numero uno! Guardami! 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 Aaaaaaah! 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 Ok, ragazze! Ora dobbiamo vincere questa challenge! Eh sì! Eh sì! Così vinceremo tutte le challenge! Ok, concentriamoci! Mi raccomando! Dobbiamo essere bravissime! Sì! Ok, datemi le mani! Ma... Qual è la prossima? Ehm... Allora, noi... Vinceremo! Sì! Siamo arrivate finalmente all'ultima manche! È ora di pranzo! Abbiamo tutti una fame che non ci vediamo più dalla fame! E adesso è il turno della gara di ballo delle figlie! Sì! 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 Ma... Nico! Ma come fanno a fare la challenge? Ma le hai viste? Eh! Sono di sedere sul tappeto! Sono strastanche! Quindi? Eh! Eh! Ma quindi? Eh! Quindi? Quindi? Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Noi siamo stanche e morte! Eh sì, veramente! Ma comunque non avete vinto voi! Perché voi avete barato! Siete in quattro! Siete in quattro e noi in tre! E voi Estritas che cosa pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti se secondo voi hanno vinto la squadra dei genitori o la squadra delle figlie! Insomma non si sa chi ha vinto questo challenge! È arrivato Papi Andy con le pizze! Qui abbiamo fame! Besitos! Speriamo che vi sia piaciuto questo video! Dicicelo! E vi mandiamo tanti... Besitos! Ciao! 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 Buon appetito! Buon appetito! Ciao! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!